Una giornata bellissima, dobbiamo ringraziare Boiron perché ci ha fatto un grande regalo. La giornata è stata caratterizzata da tre percorsi, tre forme di espressione d'arte. All'inizio c'erano un po' di difficoltà, poi chiaramente pian pianino, anche aiutate dalle persone che ci hanno aiutato, siamo riusciti a fare questo percorso molto divertente, riuscendo anche a tirare fuori delle espressioni che nella vita di tutti i giorni pensiamo di non avere. Giornata estremamente positiva perché ci insegna a guardare anche il nostro lavoro da un'angolazione diversa, non solamente il normale lavoro che facciamo tutti i giorni, ma anche il lavoro con un po' di creatività, metterci della fantasia, cercare di metterci dei rapporti interpersonali in tutto quello che facciamo, che va ad arricchimento e crea anche nuove possibilità, apre nuovi spazi. Specialmente noi che facciamo un lavoro che è caratterizzato tutti i giorni dall'essere a contatto con persone, quindi di spunti ne abbiamo tantissimi, tutti i giorni. Possiamo rassicurare, possiamo rasserenare, possiamo motivare tutte le persone che vengono in farmacia attraverso il lavoro che facciamo, anche attraverso piccoli gesti che possono essere fatti quotidianamente anche con l'arte. Io penso che queste siano iniziative molto piacevoli e soprattutto costruttive per il nostro lavoro perché credo che le farmacie possano e debbano diventare sempre più dei luoghi dove si interagisce con il paziente e il cliente in un modo più ampio di quello che può essere stato fatto finora. Tanti stimoli da portare in farmacia. Poi il bello è anche lo scambio con un'azienda come la vostra, che ha questa mission molto interessante e anche lo scambio con l'incontro con i nostri colleghi, questo sicuramente sì, perché si incontrano farmacisti di tante parti d'Italia che hanno visioni giustamente diverse che possono essere molto costruttive, si messe insieme. Abbiamo trascorso in Buaron una giornata veramente stimolante assieme ai colleghi del Consorzio in Farmacia. E' stata stimolante e anche sorprendente. Perché sorprendente? Perché ci siamo trovati ad affrontare il discorso salute in una maniera assolutamente originale alla quale noi non siamo assolutamente abituati e ci siamo passati attraverso il cosiddetto percorso d'arte. Ci siamo trovati proiettati in una realtà che è la realtà all'interno della quale vive anche l'azienda Buaron che è permeata, attraversata da questa inclinazione a un mondo visto attraverso gli occhi dell'artista. Il trovarsi qui e vivere all'interno di un ambiente così permeato da quello che è poi ovviamente l'atteggiamento che si va vivendo quotidianamente ha rappresentato per noi una piacevole sorpresa. Ma alla fine della giornata ci siamo trovati in una condizione che ha rappresentato quasi la resa in pratica di un atteggiamento ovvio. Abbiamo pensato, l'ho letto negli occhi dei miei colleghi, anche se non l'abbiamo espresso a parole, abbiamo pensato tutti quanti, ma così dovrebbe essere.